Oggi c'è stata la prima gara eliminatoria per il quinto campionato del Mondiale di Pesto al Mortaio. Il campionato si svolge nella fase finale a marzo del 2014 a Palazzo Ducale, con 100 concorrenti che arrivano da tutto il mondo dopo aver superato le prove eliminatorie. Gli ingredienti del pesto sono fondamentalmente basilico ligure, aglio di vessalico, olio extravergine di oliva e ligure, pinoli di pisa, fiore sardo stagionato, nonché sale grosso italiano. Noi abbiamo già fatto nella precedente edizione eliminatorie negli Stati Uniti, Canada, Ecuador, Argentina, Brasile, Russia, tutte le capitali europee e Giappone. Quindi è ormai a pieno titolo un vero campionato del mondo di pesto che sta diventando un evento mediatico importante per Genova, per la città e per il pesto.